Il consigliere regionale Pierpaolo Petrucci, con il collega Merico Di Benedetto, ma con il sostegno del vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Sant'Angelo e altri firmatari della proposta di legge bipartisan, presentata tempo fa per localizzare la sede del soccorso alpino all'Aquila, riprendono in mano la battaglia dopo che la sede è stata messa a Pescara. Veniamo a sapere, con un accesso agli atti, ha spiegato Petrucci, che oltre a una serie di fitti passivi che il soccorso paga, il presidente accantona fondi per comprare la sede a Pescara, questo nonostante il fatto che il comune abbia messo a disposizione come sede l'aeroporto di Preturo. Siamo riusciti a verificare come vengono spesi questi soldi e abbiamo visto che il presidente ha addirittura accantonato le somme per comprare la sede a Pescara, laddove il comune dell'Aquila si era reso disponibile attraverso la messa a disposizione dei locali dell'aeroporto di Preturo, attraverso addirittura degli appartamenti del progetto case che le hanno dati per la stazione dell'Aquila e per il rimessaggio dei mezzi. Ho fatto in modo che il corpo nazionale del soccorso a Pino nel corso degli anni percepisse somme e risorse importanti, una roba come 500 mila euro, poi in realtà si è fermato qualcosa, con il presidente nuovo si è arrivati a mettere la sede all'aeroporto di Pescara e è giusto che quindi la regione Abruzzo faccia la propria parte, la politica è giusto che faccia la propria parte, vada a verificare quelle che sono le spese, come vengono spesi i soldi del corpo nazionale del soccorso a Pino, come vengono acquistati materiali, mezzi, è giusto che noi andiamo a fare tutta una serie di verifiche. La sede per i presenti deve essere all'Aquila perché è lì che si concentra la maggior parte dei soccorsi e l'Aquila del resto ha una tradizione storica di montagna. Con le buone maniere, ha ribadito Pietrucci, chiediamo di fermarsi e seguire le proposte che arrivano dalla politica. Se non si retrocederà, chiediamo che venga discussa e approvata a breve la legge. Il progetto ora è fermo in commissione. Il soccorso alpino per i presenti ha ricevuto contributi rilevanti dalla regione ed è giusto dare attenzione a come vengano spesi i soldi degli abruzzesi. Le vocazioni territoriali devono essere rimesse al centro anche secondo il consigliere Americo Di Benedetto. I consiglieri poi hanno mostrato semplici conti. Avere la sede all'Aquila comporterebbe un risparmio nei costi, oltre ad essere più veloci negli interventi. Pietrucci ha anche aggiunto che si augura che l'assessore Liris, che amministra le risorse, possa avere un ruolo centrale e unirsi a loro. Le voci di spesa intanto del bilancio del corpo del soccorso alpino saranno scandagliate, annuncia Pietrucci, e sarà informato sia il presidente della regione che quello nazionale del soccorso alpino per mostrare cosa accade in Abruzzo.